31 discipline e 60 sedi di gara per 7500 atleti in arrivo da tutto il mondo a Torino per quello che si annuncia essere uno degli eventi più attesi dell'estate. Sono gli European Master Games, la manifestazione internazionale che ogni quattro anni coinvolge gli sportivi over 35, giunta alla sua quarta edizione in programma nella città della Molle dal 26 luglio al 4 agosto. Dall'atletica al karate, dalla palla a mano alla danza, passando per calcio, ciclismo e canottaggio, i Master Games saranno una vera festa dello sport che grazie anche alla disponibilità di 400 volontari animerà impianti e campi di gara del capoluogo piemontese e di 15 città delle province di Torino, Novare e Vercelli. Entusiasmo, gioia di partecipare e la consacrazione del fatto che Torino e il Piemonte sono dei luoghi, dei siti dediti allo sport e all'accoglienza. Il mondo Master rappresenta il punto focale dello sport, primo perché ci sono le disponibilità, secondo perché vuole essere l'esempio. Per cui questi giochi sono una consacrazione e un inno a questo tipo di pratica sportiva Master. Competizione e agonismo insieme alla promozione dell'attività sportiva e di sani stili di vita saranno il cuore dei dieci giorni di gare, ma gli European Master Games di Torino vogliono anche essere un'occasione irripetibile per scoprire e apprezzare il patrimonio artistico e culturale della città e del Piemonte, grazie ai momenti extrasportivi pensati per gli atleti e per i loro accompagnatori. Abbiamo sentito i numeri importanti di questa grande manifestazione sportiva. 7500 atleti che competono a un'esperienza sportiva come quella della prossima settimana indubbiamente avranno una bella ricaduta anche d'immagine sul Piemonte futura. Ad aprire i giochi la paratina augurale che sabato 27 luglio attraverserà il cuore di Torino, partendo dal Game Center di Torino Esposizioni per arrivare in Piazza Castello. Informazioni, gare, calendario e attività degli European Master Games sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento www.torino2019mg.org